Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea, l'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa e quando si è placato bisogna prendere una decisione, bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarla. Perché l'amore è questo. Bella bambina, ore e due! L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo. Questo è semplicemente essere innamorati e chiunque può facilmente convincersi di esserlo. L'amore invece è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato. Ci sarà presto una guerra e in guerra accadono le cose più orribili. Usa questa per difenderti e in caso di necessità usala contro te stessa. Amore! Amore! È inutile, è impossibile. Non c'è strumento che possa esprimere ciò che provo per te. Sarei rimasto a guardarvi per sempre. Voi credete di poter venire qui a sconvolgere così la mia esistenza?